Pirolo Gargallo, 32 anni, vante dai domiciliari, arrestante dai carabinieri. Una donna deve espiare una pena residua di 4 anni, 6 mesi e 12 giorni di reclusione in esecuzione del provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Latina a febbraio dello scorso anno. Il provvedimento di carcerazione è scaturito a seguito della commissione dei reati di sostituzione di persona, furto in abitazione e tentata truffa perpetrante nel 2015 in provincia di Latina. Da prima condotta presso la stazione femminile della casa circondariale di Catania e Piazza Lanza e da alcuni mesi ai domiciliari, i carabinieri della stazione di Pirolo della Compagnia di Siracusa impegnati in un servizio di controllo ai soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e alla sorveglianza speciale hanno arrestato Angela Fiasche, 32enne, casalinga siracusana e pregiudicata per il reato di evasione. La donna infatti, benché in regime di detenzione domiciliare al momento del controllo, non era presente in casa. I militari dell'arma hanno quindi immediatamente avviato le ricerche, rintracciandola poco dopo a casa della sorella presso la quale si era regata senza alcuna autorizzazione. La Fiasche è stata ricondotta quindi nuovamente agli arresti domiciliari presso la sua abitazione e dovrà in futuro rispondere di un nuovo reato.